ciao fragoline e ciao fragolini allora nuovo video finalmente ho deciso di mostrarvi praticamente la mia nuova cucina allora la marca è l'ube creo per cui praticamente l'ho presa la lube creo e vi dico che mi sto trovando molto bene la qualità è ottima c'è secondo me la mia cucina durerà tanti anni allora volevo farvelo vedere perché se no tutte le volte faccio fatica a fare i blog e ogni volta che faccio i blog dico cavolo però non posso mostrare la cucina dato che non l'ho fatta vedere allora la mia intenzione era di mostrarvi la cucina insieme all'home tour della casa ma dato che la casa non è pronta ci vuole un po per diciamo finire ancora tanti lavori che mancano mancano anche ancora i mobili c'è molti mobili mancano per cui è praticamente vuota e io voglio farvelo vedere quando è proprio a posto con lavori già fatti col bagno nuovo eccetera perché tanto avevo già fatto un tour della casa vuota per cui più o meno chi l'ha visto cambia cioè appunto cambia solo che ci sono i mobili l'arredamento eccetera e allora ho detto questa volta faccio vedere la cucina così almeno non posso dire cavolo devo fare le ricette però se spoilerò la cucina era un po difficile e allora ho detto vabbè ho deciso e vi mostrerò tutta la mia cucina allora dentro non vi faccio vedere proprio tutto tutto ma solo le cose carine cose belle da vedere per cui io ve la mostro e fatemi sapere qui sotto in un commento se vi piace e se anche voi avete una cucina come la mia della lube creo detto questo andiamo a vederla allora praticamente quella è l'entrata della cucina poche parole e vedete questo perché ha un arco entrando qua c'è la penisola con due sgabelli vi dico anche ovviamente dove le ho dove ho preso un po' di cose così almeno prima che poi mi chiedete ma quelli lì dove li hai presi ma quelli dove li hai comprati allora dato che so già che molte persone scrivono così ve li dico allora i due sgabelli che vedete che sono questi questi qua li ho presi li ho comprati su amazon sono molto belli morbidi perché questo è in velluto e sono due sgabelli se non mi sbaglio l'ho pagati 80 euro più o meno adesso non mi ricordo comunque questi sono gli sgabelli che ho preso su amazon questa è la parte della penisola ho deciso di fare la penisola perché così almeno ho un appoggio di lavoro per fare l'impasto della pizza per fare diciamo tante ricette e tante cose e ogni tanto facciamo colazione anche sulla penisola dato che siamo in due per adesso ovviamente facciamo ogni tanto anche colazione sotto la penisola c'è la mia aspirapolvere ovviamente della folletto che voi avete già visto l'unboxing poi vi farò la recensione e ovviamente c'è anche stata sotto alla mia penisola sotto ho comprato un carrellino piccolino che secondo me era meglio comprarlo a 4 invece io l'ho preso a 3 perché pensavo che non ci stava sì c'è ancora il pandoro di Chiara Ferragni ma lasciamo perdere perché tanto quando vedete questo video ovviamente dopo lo mangerò e questo è il ripiano dove ho preso cioè dove ho messo per il momento lascio così queste cose che ho tosta pane questo qua per fare l'acqua frizzante e poi anche mettere la coca però vabbè quello è per fare la spremuta d'arancia qui ci metto i miei cereali questo l'ho preso al Lidl che è portaspezie è praticamente comodo da utilizzare e in più si gira questo ci sono le altre spezie col pepe questo è il portapane per mettere dentro il pane io per adesso ci ho messo quelli perché di solito noi non lo mangiamo il pane perché a me non è che vado pazza e questi due sono i vassoi della Kinder originali che ho vinto e vabbè poi diciamo comunque la penisola è fatta così dopo ve la faccio vedere in grande più più spaziosa poi di qua abbiamo questa colonnina in poche parole la cucina come vedete è grigia chiara è uguale per chi mi segue da tanto ho fatto vedere anche la cucina di mia mamma quando l'ha cambiata che era nuova è lo stesso colore identico a quella che ha lei anzi però lei ce l'ha molto più scura e praticamente lei ha la cucina uguale identica alla mia ma scura per cui per farvi capire è scura questa è tutta la colonnina perché la cucina è fatta a sua misura per cui come vedete è tutto a sua misura allora sotto qui vabbè voi aprite e ci sono messo diciamo le teglie dei dolci però non vi faccio vedere proprio tutto tutto poi in questo il forno che si apre a due e diventa praticamente ce lo puoi usare con due come se hai due forni in poche parole e va così si piega le elettrodomestici sono tutti della samsung come vedete ed è fatto così però tanto poi ci sarà la recensione del forno invece questo è il microonde che fa da forno per cui c'è in poche parole il forno a microonde per cui io lo uso sia come forno che come microonde per cui ho due forni per farvi capire e questo sopra un'altra dispensa anche qua dove ovviamente si apre però ripeto non voglio farvi vedere tutto tutto perché ancora c'è troppo casino e andiamo sul più bello perché voi non l'avete visto c'è questo frigor americano che ho dovuto scegliere praticamente così perché c'erano diversi modelli uno più grande uno più piccolo e uno medio questo è quello medio perché poi ce n'era un altro più grande che occupava di più solo che se prendevo il frigor grande la penisola ovviamente non potevo metterla per cui alla fine ho scelto questo frigor americano in poche parole medio sempre della samsung ed è fatto così anche questo vi farò vedere anche il dentro con la recensione del frigor americano vi dirò come mi sto trovando qui il frigor fa l'acqua e il ghiaccio acqua e ghiaccio però vabbè diciamo che qua ho messo tutte le mie calamite quando poi farò altri viaggi questo frigor sarà pieno ma pieno pieno di calamite perché a me piacciono troppo le calamite certi ovviamente me l'hanno regalati per cui certi sono quelli dei viaggi invece certi sono quelli che mi hanno regalato qua c'è la finestra che vi avevo fatto vedere sotto il calorifero e di qua passiamo al ovviamente qua c'è il lavello dove lavo i piatti qua questo si allunga perché così puoi diciamo pulire le pentole senza far fatica e qua abbiamo qua ho dovuto metterlo con le due vite per forza perché se no non riuscivo a farlo stare su è il porta spugna per mettere qua le spugne in poche parole così meno è più ordinato il marmio il marmo mi sto impappinando è praticamente di questo colore grigio con brillantini ovviamente non si vede bene perché comunque è un po' buio comunque è fatto così il lavello è nero non so perché adesso voi lo vedete anche un po' bianco comunque è fatto così questo è il pannello non sono non ho scelto le piastrelle ma preferivo questo perché almeno è più facile da pulire per cui tutto questo pezzettino qua sotto come vedete è fatto così qui c'è la lavastoviglie che però anche questa ve la mostrerò in una recensione in un altro video qui allora qua vabbè vi faccio vedere veloce dispensa che ancora devo mettere tutto a posto come vedete c'è un po' di casino perché sotto c'è il mio tè con nutella e c'è anche quello di i wrap qua sotto c'è ancora da mettere a posto qua quando aprite anche qua devo ancora capire bene come organizzarmi perché qua ci sono le tovaglie qui ci sono gli strofinacci questo non sapevo dove metterlo per il momento lo lascio qui e qua ci sono quello per il forno con i grambioli poi se aprite qua sotto c'è un altro cassetto dove ci sono tutte il reparto posate che poi io ho sistemato così e c'è praticamente tutto il reparto delle posate che questa parte è ancora un po' da valutare perché non mi piace come come l'ho sistemata però per farvi vedere è molto comodo ed è fatto così sopra ho l'induzione comodissimo facilissimo da pulire da quando ce l'ho è una bomba sempre della samsung c'era anche un po' più grande però dato che ho avuto difficoltà per la caldaia nuova allora alla fine abbiamo dovuto sceglierlo così sennò c'era più grande e potevi mettere altre padelle ovviamente non grande grande ma altri centimetri più o meno di qui per il momento ho messo lo zucchero il sale eccetera questo è per tagliare lo vinto al tigros per tagliare il tagliere per tagliare tutto la macchinetta robot che avete già visto avevo fatto la recensione dentro qua c'è la mia caldaia che avete già visto nel vlog qua invece ho messo questo che è la lavagnetta dove io scrivo bla 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 praticamente tutto quello che che devo scrivere lo strofinaccio per il momento l'ho appeso lì perché ho attaccato ovviamente il gancio per lo strofinaccio e poi il calendario per il momento qua sotto poi vabbè ho il frullatore dell'animetech sopra c'è un altro diciamo piano dove ho messo bicchieri c'è anche la k ed è fatto così anche questo è tutto da sistemare qua ho messo i bicchieri le tazze altri bicchieri con le tazzine reparto olio eccetera altre tazze lì in fondo però devo sistemare ancora perché come ho sistemato non mi piace e di qua è così sopra reparto dolci allora questo si schiaccia si tiene premuto e si schiaccia reparto dolci fatto così anche qua da mettere a posto invece di qua sotto è praticamente aperto perché l'ho scelto così e volevo metterci le cose in bella vista molto carine per adesso ci ho messo la tazza termica di Chiara Ferragni originale quello crodino che ho vinto questo qua ce l'avevo a mio nonno e per ricordo l'ho tenuto le due tazzine che mi hanno regalato vabbè questo è quello della Sardegna che ho comprato per bere il vino che mi ha regalato l'agenzia dove ho comprato la casa e mi ha regalato praticamente col vestitino il cappellino questo è quello che ho comprato a McDonald's dove c'era praticamente questo per mettere lo zucchero che c'è dentro però non riesco a farvi vedere e anche le tazzine piccoline dove c'è scritto mercoledì domenica venerdì e le altre tazze grandi che sono di là poi le due tazzine che mi ha regalato mia zia quello per il momento l'ho lasciato lì sennò si rompeva dove sono andata in Egitto a Charm queste sono le tazzine da caffè e il set completo della Tune caffè al volo non so sì Tune la Tune che mi ha regalato l'altra mia zia e mi ha regalato il set che io amo solo che per non romperlo l'ho tenuto qua e non voglio diciamo per il momento utilizzarlo però è molto bello e questo è il repartino sopra invece qui che ancora devo sistemare ho messo i bicchieri che ho un casino di bicchieri come vedete lì ce ne sono tanti sono da sistemare qui è per diciamo mettere i piatti eccetera però non lascio mai così in poche parole dato che ho lavato eccetera l'ho messo così però qui è sempre vuoto non c'è mai niente lo vedete adesso perché ho pulito tutta la cucina e credo basta qui vabbè ho messo la macchina del caffè che vi ho fatto vedere con le cialde e questo che porta coltelli dove si gira anche per il momento ho questo questo qua lo sto usando per appoggiare i cucchiai quando sto quando cucino si è di natale perché me l'ha regalato mia mamma dato che ho solo questo che in teoria ha messo anche un po' rotto per adesso sto utilizzando questo e diciamo che questa è tutto il riparto della mia nuova cucina ah vi faccio vedere ovviamente il marchio così almeno questo è della Creo Lube questo è il marchio c'è praticamente da tutti i cassetti però ve ne faccio vedere uno così almeno vedete allora questa non è pronta mi sembra questa qua si apre da sola quando finisce si apre da sola e e va giù però avevo già fatto il video e l'ho messo su TikTok e niente mi manca solo il tubo da mettere per la cappa perché come vedete non c'è ancora il tubo della cappa e poi quando mio fratello riesce lo mette per cui in poche parole qua questa è tutta la mia cucina allora di qua metterò una mensola praticamente dove metterò qualcosa di carino perché non so cosa mettere in questa parete qua dato che è vuota è brutta vederla così comunque fatemi sapere come sistemare diciamo questa zona perché adesso c'è questa macchinetta qua poi ci sarà la macchinetta quella più grande del caffè per cui per il momento vedete questa e poi vi farò un aggiornamento della cucina completa poi fatemi sapere anche come sistemare le cose qualche consiglio che è sempre utile anche su questa diciamo parte qua prima questi erano di là solo che non ci stavano e allora l'ho messo di qua sono un po' scomodini però però vabbè per il momento li lascio qua stessa cosa questo reparto qui o sotto la penisola per cui non lo so datemi qualche consiglio anche per la sistemazione dei cassetti perché come vedete io adesso non ho il poggia di questi per qua c'ha il buco ma non ce l'ho il poggia adesso non mi viene il nome comunque se avete qualche idea per sistemare diciamo tutte queste cose mi date una grandissima mano perché è un continuo che sposto tutto quanto tutte queste cose cioè è un disastro comunque vabbè per il momento questa è quello che vedete però voi lo stesso scrivetemi sotto nei commenti qualche consiglio anche come mettere bene le cose dentro tutto quello che volete ovviamente sono sempre utili consigli e anche diciamo non so ti consiglio di mettere che ne so quello delle spezie di qua di là e su giù poi vabbè poi piano piano vedrò anch'io come sistemare bene per il momento non ho il mobile della vetrina per la sala e dato che ho troppi bicchieri perché in quel reparto sopra che non vi ho fatto vedere ci sono tantissimi bicchieri che occupano solo bicchieri quello sopra che vi ho fatto vedere di qua anche qua i bicchieri sono tanti per cui cioè questo diciamo non dico che è tanto incasinato ma ci sto ancora lavorando e ormai sono tre mesi a marzo facciamo tre mesi che stiamo nella nuova casa e ci sono ancora tante cose da sistemare in più non avendo la vetrina non posso mettere tutti i bicchieri che non consumo dato che siamo in due ovviamente nella vetrina quando sistemerò i bicchieri andranno in sala secondo me ci sarà più ordine e niente io aspetto tutti i vostri consigli qua sotto scrivetemi se anche voi avete una cucina della Louvre creo io mi sto veramente trovando bene la qualità è ottima 100% per cui io vi consiglio che se volete una cucina che dura tanti anni andate alla Louvre creo perché poi vi fanno la cucina su misura come la mia che è su misura e allora i calcolate che dipende da da cosa volete io ho preso tutto Samsung di elettrodomestici in più mi hanno regalato anche la lavatrice che vi ho fatto anche il video della recensione per cui io calcolate che tutto questo l'ho pagato 12.000 euro cioè sto pagando 12.000 euro se i prezzi cambiano perché dipende cosa volete di elettrodomestici se volete farla su misura se avete una cucina più grande vi costa di più tante cose per cui il prezzo cambia ovviamente io l'ho detto perché la mia è piccolina se voi volete farla ad esempio così più o meno questo il prezzo niente spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao